Sarà l'inaugurazione dello stadio della Juventus, il Parma parte già sconfitto, cosa risponde? No, partiamo sconfitti, partiamo per essere protagonisti in uno stadio che viene usato per la prima volta, perlomeno per la prima volta in campionato, uno stadio di una grande squadra del calcio italiano, quindi vogliamo essere protagonisti, questo si è ovvio che ci rendiamo conto delle difficoltà, ma non partiamo battuti, sarebbe giusto nella nostra filosofia se credo che la salvezza dell'anno scorso passi da questo modo di calzare. Sarà più difficile per la Juve esorgere bene i miei primi e propri tifosi o per il Parma fare l'ottavoli? Non è un contatto utile e conseguibile dall'anno scorso? No, sono tutte cose difficili, per loro c'è l'obbligo di vittoria, c'è il desiderio di vittoria, e per noi è la prima di campionato, noi non partiamo dall'anno scorso perché onestamente dobbiamo partire dall'anno scorso con la stessa testa, però pensando a quelle vittorie onestamente diventa impegnativo anche per noi. Partiamo col cervello giusto, è difficile tutto, però se c'è l'impegno e la volontà dell'anno passato non si può fare bene. Grazie, l'entusiasmo è comunque già altra di questa serata come questa. Sì, è vero, ho accolto volentieri perché è stato detto da due parti che c'era un calo di interesse, forse non mi sono proprio, perché Parma è sempre di solito questa squadra. Grazie.